Il Centro Medico Sportivo Riabilitativo dell'Università degli Studi di Messina ha sede nei prestigiosi spazi della cittadella universitaria dell'Annunziata all'interno di un antico casale risalente alla fine del Settecento. Con la collaborazione di personale qualificato offre servizi riabilitativi indirizzati alle più varie patologie sia dell'atleta che del paziente adulto e anziano anche grazie all'impiego di moderne tecnologie e impianti all'avanguardia. Oltre alle terapie strumentali e alla classica terapia manuale uno dei punti di forza del Centro Medico Universitario è rappresentato dal servizio di idrochinesi terapia svolto grazie alla collaborazione del Cusunime che mette a disposizione le sue piscine. Il Centro inoltre è punto di riferimento per lo svolgimento delle apposite visite mediche finalizzate al rilascio dei certificati medico-sportivi per attività agonistiche e non agonistiche. La struttura si avvale anche di rapporti di collaborazioni con i poli scientifici dell'Ateneo al fine di ottenere un costante aggiornamento tanto nei metodi quanto nelle tecnologie di cura. Il Centro infine ha già stipulato diverse convenzioni con enti e organizzazioni locali con l'intento di promuovere un sempre maggior coinvolgimento della cittadinanza e rafforzare la propria presenza sul territorio nell'erogazione di servizi e di alto valore aggiunto. In questo senso il Centro rivolge la sua offerta sanitaria non solo all'utenza universitaria ma soprattutto ai cittadini messinesi. Un fiore all'occhiale dell'università dunque che sempre più vuole aprirsi alla città.